Se voi riuscite a scorgere l'immagine di Gesù in Giona, in Sansone, in Davide o in altri interessanti personaggi biblici, allora il mondo potrà scorgere l'immagine di Gesù in voi. Potreste rispecchiare l'immagine di Gesù nonostante i vostri difetti? Da più di 40 anni, AmazingFacts si dedica alla condivisione della parola di Dio tramite i media. Questo programma contiene estratti dai migliori programmi televisivi. Mettetevi comodi e godetevi questa edizione di AmazingFacts Presents. Leggendo la Bibbia Si possono vedere vari aspetti del Figlio di Dio riassunti nella figura del Cristo. Il Nuovo Testamento celebra gli eroi dell'Antico Testamento, come per esempio Gedeone, che sotto molti punti di vista è un tipo di Cristo. Anche i loro nomi ci rivelano qualcosa. Gedeone significa stroncatore o tagliatore di grandi alberi. Una delle prime cose che Gedeone fa dopo essere stato chiamato dall'Angelo, la si può leggere in Giudici 6.11. Poi venne l'Angelo dell'Eterno e si sedette sotto la quercia di Ofra, che apparteneva a Joash, a Biezerita, mentre suo figlio Gedeone batteva il grano nello strettoio. Grano e uva Una delle ultime cose che fece Gesù fu quella di offrire grano e succo d'uva a chi era con lui. Batteva il grano nello strettoio. Questo è ciò che fece anche Melchiside, che è un altro tipo di Cristo. Offrì del pane e del vino, simboli della parola di Dio e del sangue del patto. Eccolo qui. E mentre tutti gli altri hanno paura, lui lo mette al sicuro dai Madianiti. Gedeone conquista un esercito numerosissimo con un pugno di uomini ripieni della potenza di Dio. Questo è ciò che fa Gedeone. Gesù non ha fatto lo stesso? Con una manciata di discepoli e di apostoli hanno rovesciato il mondo. Una manciata di uomini di cui la maggior parte ha abbandonato Gesù, vero? Tuttavia, alcuni rimasero. Gedeone non fu forse abbandonato da una gran parte dei suoi uomini, quando disse se avete paura tornate a casa, molti lo fecero. E poi coloro che non bevvero dal fiume con circospezione furono scartati. Il suo esercito, dunque, non contava sulla quantità, ma sulla qualità. E la qualità fu in grado di soggiogare una grande potenza. Gesù passò tre anni e mezzo a formare uomini, puntando alla qualità. Finirono con rovesciare il mondo. Gedeone ci viene detto anche che era un uomo umile. Era il più giovane fra i suoi fratelli. A proposito, avete notato il fatto che spesso Dio sceglie il più debole o il più giovane? Giuseppe era il penultimo dei figli. Davide è l'ultimo genito. Mosè è l'ultimo genito. Gedeone è l'ultimo genito. Dio ci mostra di servirsi di ciò che spesso viene sottovalutato o disprezzato per compiere grandi cose. In Giudici 6,15, leggiamo, egli gli rispose O mio signore, come salverò Israele? Ecco la mia famiglia è la più debole di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Sapete, quando George Washington riportò la vittoria sull'esercito britannico e furono fondati gli Stati Uniti, qualcuno lo voleva fare re. In fondo tanti provenivano dall'Inghilterra, di cui avevano conservato la mentalità e dicevano sì, sappiamo che siamo un paese libero e che agiremo diversamente ma abbiamo comunque bisogno di un re. Alcuni dunque volevano fare Washington re, ma lui disse no. Si tirò indietro, gli altri insistettero perché facesse il presidente ma lui era dell'idea che il presidente dovesse essere eletto dal popolo e a motivo della sua umiltà stabilì un modello per tutti gli altri presidenti che dopo di lui avrebbero detto ho un mandato a termine, non sono un re, non siamo una monarchia e aggiunse non solo non regnerò ma non regnerà nemmeno mio figlio. Qualche anno più tardi gli israeliti chiesero dacci un re come tutte le altre nazioni e nacquero i primi problemi. Un'altra cosa che troviamo nella storia di Gedeone è che il suo futuro è stato segnato dal modo in cui Dio ha usato un vello. Avete mai sentito l'espressione la prova del vello? Cos'è il vello? È la pelle della pecora. E cosa rappresenta l'agnello nella Bibbia? Cosa ha usato Dio per coprire la nudità di Adamo ed Eva? Un vello. Una pelle di pecora. È il simbolo della giustificazione di Cristo e per Gedeone è stata la guida per i suoi passi successivi. Un altro aspetto che ci fa vedere Gedeone come tipo di Cristo sono i vari simboli. Se prendiamo per esempio nella storia di Gedeone a un certo punto si parla di un sogno in cui una pagnotta di pane abbatte il nemico. Una piccola pagnotta di pane colpisce e distrugge le tende dei medianiti. Ebbene, cosa rappresenta il pane? L'uomo non vive di solo pane ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Cristo è la parola fatta carne. Perciò fu il pane di Dio, la parola di Dio, a distruggere il nemico. Gesù, la parola, li conquista. Fra gli altri simboli che troviamo nella storia di Gedeone ci sono una tromba, una spada, lampade e pane. Alza la tua voce come una tromba, un simbolo che rappresenta la parola di Dio. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli. La spada è la parola di Dio. Efesini 6, la spada dello spirito, che è la parola di Dio. E poi leggiamo di una lampada. La tua parola è una lampada al mio piede. Abbiamo già detto che il pane è la parola di Dio. Quindi cosa usa Gedeone per vincere il nemico? Tutte queste cose sono simboli della parola. In che modo Cristo ha sovrastato il potere di Satana? Mediante la parola ed è stato anche un esempio per altri. Possiamo leggere il punto in cui Gedeone li ha condotti in battaglia, in Giudici 7,17. Ricordatevi amici che stiamo facendo delle rapidi incursioni in queste storie. Ci sono vari capitoli del Libro dei Giudici che dovete leggere. Giudici 7,17 Guardate me e fate come farò io quando sarò giunto ai margini dell'accampamento e voi farete esattamente come faccio io. Non è forse la stessa cosa che ha detto Cristo? Sono venuto per darvi un esempio. Dobbiamo fare come lui. Anche Paolo ha detto Siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Il nostro esempio supremo è Cristo. Quando consideriamo la vita di Gedeone ci rendiamo conto che sotto molti aspetti rappresentava l'immagine di Cristo. Condotto due o tre serie su Gedeone non è possibile condensare il tutto in questo breve tempo. Giona Ricordate nelle scritture quando Gesù dice I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona ed ecco qui c'è uno più grande di Giona. Anche Giona è un tipo di Cristo? Gesù sembra dirci di sì ma come possono questi uomini con tutti i loro difetti e i loro limiti essere tipi di Gesù? Prendete Davide è quello che ha combinato Sansone è quello che ha combinato Giona si è girato ed è scappato. Come può essere un tipo di Cristo? Ebbene sono tutti tipi imperfetti di Cristo ma ci sono aspetti della loro vita che ci illuminano in qualche modo e che ci dovrebbero incoraggiare. Potreste rispecchiare l'immagine di Gesù nonostante i vostri difetti? Se voi riuscite a scorgere l'immagine di Gesù in Giona in Sansone, in Davide e in altri interessanti personaggi biblici allora il mondo potrà scorgere l'immagine di Gesù in voi. Giona che andava nella direzione sbagliata alla fine seppur con qualche resistenza ha preso quella giusta a volte Dio deve servirsi di una tempesta per farci cambiare direzione. Ma in cosa Giona assomiglia a Gesù? Beh, non vi può sfuggire il fatto che Giona è un profeta di Dio che dorme sul fondo di una nave durante una tempesta. Non è una cosa che succede tanto spesso nella Bibbia deve addirittura essere svegliato quando tutti quanti sono sul punto di perire. Lo leggiamo in Giona 1,6 Alzati, disse il capitano Invoca il tuo Dio forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo Durante la tempesta sul mar di Galilea i discepoli si rivolsero a Gesù e in Marco 4,38 leggiamo Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale proprio come Giona Essi lo destarono e gli dissero Maestro, non ti importa che noi periamo? Che razza di cosa da dire a Gesù? Non ti importa che noi periamo? Che razza di domanda da fare proprio a Lui che venne sulla terra per salvarci? Un altro parallelismo che troviamo in Giona è che non solo stava dormendo su una nave durante la tempesta ma dovete anche essere sacrificato per ristabilire la quiete Si sono chiesti Perché ci sta accadendo tutto questo? Allora Giona rispose È per colpa mia Sapete perché ci sono tanti problemi nel mondo di oggi? È colpa di Gesù Perché il diavolo lo odia Volevo catturare la vostra attenzione Siccome il diavolo odia Gesù se la prende con voi il motivo per cui è in atto questo gran conflitto è perché il diavolo ambisce alla posizione che ha Gesù Tirarono dunque a sorte e la sorte cadde su Giona A proposito sapete cosa vuol dire il nome Giona? Colomba Cristo non ha forse inviato lo Spirito Santo sotto forma di Colomba? Egli quindi disse Se volete la quiete dovete buttarmi a mare Mi sono sempre chiesto La quiete sarebbe scesa solo dopo averlo buttato in acqua Perché non si è gettato lui stesso? No Dovevano prendersi la responsabilità di averlo buttato in mare Non volevano farlo Cercarono di salvare se stessi ma lui disse L'unica soluzione è quella di sacrificarmi Tentarono di remare ma il mare divenne ancora più aggressivo Alla fine dissero Signore non renderci colpevoli di sangue innocente Quando Cristo fu tradito venne definito sangue innocente Giuda disse Mi sono macchiato di sangue innocente Allora presero Giona e uno, due, tre lo scagliarono in acqua Immediatamente il mare si chietò Il mare non si chietò quando Gesù si mise a parlare Quando accettiamo il sacrificio di Gesù nella nostra vita scende una pace sovrannaturale Non veniamo sopraffatti Ci viene poi detto che fu mandato da Niniviti Ninive era una città enorme Per attraversarla ci volevano tre giorni di cammino Giona fece questo tragitto non sappiamo esattamente dove il pesce lo vomitò ma fu probabilmente più a nord perché erano in viaggio verso Tarsis e la tempesta li spinse a nord Da qualunque punto della costa si trovasse cammina tre giorni per arrivare a Ninive poi si inoltra nella città per un giorno di cammino il che vuol dire dodici ore e comincia a predicare Dopo tre giorni e mezzo comincia a predicare Veniva dall'acqua e dopo tre giorni e mezzo inizia a predicare dicendo che tra 40 giorni la città sarebbe stata distrutta Gesù appena battezzato Predica per tre anni e mezzo e afferma che Gerusalemme sarebbe stata distrutta nell'arco di una generazione 40 anni Ecco perché Gesù dice agli ebrei Giona è un segno per voi ma i Niniviti si ravvidero alla predicazione di Giona Ed ecco qui vi è uno più grande di Giona Il vostro Messia è qui e voi non vi ravvedete Ninive non fu distrutta dopo 40 giorni perché gli abitanti si pentirono Gerusalemme invece fu distrutta perché gli abitanti non si ravvidero Chiaro? Era un segno ci siamo? Poi abbiamo un altro segno Quale fu il primo messaggio di Gesù quando cominciò a predicare? Pentitevi Cosa diceva Giona percorrendo in lungo e largo le strade di Ninive? Anche il suo era un'esortazione al pentimento Seguitemi nella storia di Esther Anche qui ho preparato una serie di tre o quattro presentazioni su Esther ma non ho il tempo di esporla tutta Ad ogni modo ci sono tanti tipi non solo di Gesù ma anche della Chiesa perché Esther è un tipo della Chiesa mentre Mardokeo lo è di Gesù per esempio vengono separati e Mardokeo dice Esther io non posso entrare nell'area di quel palazzo pagano ma tu sì tu sarai la rappresentante del tuo popolo là dentro mostrerai la tua bellezza nel palazzo la Chiesa di Cristo Gesù non è nel mondo ora egli disse vi mando nel mondo noi abbiamo il compito di rappresentare Gesù in questo mondo pagano giusto in questo mondo che si è smarrito viene emessa una legge e siccome Mardokeo non si inchina davanti ad Aman e non trasgredisce in alcun modo i comandamenti di Dio Aman vuole sterminare tutto il popolo di Mardokeo i giudei Satana non voleva forse che Gesù si inchinasse a lui e dato che Gesù non si inchinò il diavolo non scatena forse la propria ira sulla Chiesa sul popolo di Dio alla fine il popolo di Dio non verrà forse liberato negli ultimi giorni non verrà emesso un decreto di morte per annientare il popolo di Dio per il fatto di essere rimasti fedeli ai suoi comandamenti senza essere scesi a compromessi cosa fece Aman quali erano i suoi piani per Mardokeo fece costruire un patibolo per impiccarlo ed esporlo fra cielo e terra qual era il piano di Satana per Gesù non era forse quello di esporlo fra cielo e terra attraverso tutti questi elementi vediamo di spiegarsi la storia del Vangelo che ci rivela Gesù ma torniamo a Mardokeo a un certo punto lo vediamo stracciarsi le vesti e supplicare davanti alla porta qui abbiamo un periodo di preghiera e di digiuno che dura tre giorni sapete cosa trovo interessante nel libro di Esther non si legge mai la parola preghiera non si legge mai la parola Dio si parla di digiuno ma non di preghiera si parla della provvidenza di Dio della sua liberazione ma non si menziona mai il nome di Dio nel libro di Esther sapete perché? perché il libro fu scritto quando i giudei erano schiavi e in cattività in terra persiana e se avessero scritto il nome di Dio menzionato il fatto che si rivolgevano a lui in preghiera il libro avrebbe potuto essere distrutto questo libro dunque è stato scritto con molta circospezione per mostrare la provvidenza di Dio e il modo in cui lui risponde alle nostre preghiere si parla di digiuno ma non di preghiera si parla di provvidenza divina di liberazione ma non si menziona mai il nome di Dio è un libro estremamente interessante è l'unico libro intero o parziale che non è stato trovato tra i rotoli del mar morto alcuni credono che i rabbini essini molto devoti non leggendovi il nome di Dio si siano fatti scrupoli a includerlo insieme a tutti gli altri quanto a me sono indubbiamente contento che faccia parte del canone biblico sono convinto che sia un libro ispirato ad ogni modo a un certo punto c'è un ribaltamento di scena Aman finisce impiccato su quella stessa forca che aveva fatto ergere per Mardokeo Aman che voleva essere il re dovete condurre Mardokeo per le strade della città ve lo ricordate? questa è una bella storia va dal re per ottenere la sentenza a morte di Mardokeo e il re che non riusciva a dormire dice la lettura delle cronache è proprio a sua porifera perché non me le leggete così magari riuscirò ad addormentarmi nelle cronache a un certo punto si parla di un complotto il re apre un occhio per assassinare il re a suo ero e Mardokeo smascherò i colpevoli e salvò il re per un pelo abbiamo mai fatto niente per questo Mardokeo controlliamo la nota più di pagina no re niente nessun riconoscimento nessun ringraziamento niente di niente ma questo non è stato un comportamento molto nobile bisogna fare qualcosa come possiamo ringraziarlo mentre lì che pensa come ricompensare Mardokeo che aveva rimascherato il complotto entra Aman per ottenere dal re il decreto di morte proprio per Mardokeo il re quando lo vede entrare gli dice ehi Aman arrivi proprio al momento giusto ho una domanda da farti in che modo potrei onorare un uomo Aman è talmente egocentrico che fra sé pensa chi altri vorrebbe onorare se non me 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 e risponde orbene si prenda il cavallo del re quel bellissimo cavallo bianco quello splendido stallone gli si metta la sella regale e si faccia indossare a quell'uomo le vesti del re gli si metta anche la corona del re gli si faccia percorrere le strade della città preceduto da una parata di funzionari che gridano così si fa l'uomo che il re vuole onorare cosa voleva Aman la bocca parla dall'abbondanza del cuore voleva essere incoronato re col tempo se fosse stato necessario probabilmente avrebbe anche assassinato il re cosa vuole il diavolo io sarò come l'altissimo potete immaginarvi la scena avrei voluto poter fotografare la faccia di Aman quando il re gli disse sì mi sembra equo sai che fai tutto quello che hai appena detto e l'altro forse se la rideva già sotto i baffi a Mardokeo la scena si è ribaltata nella Bibbia leggiamo chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato Gesù si è abbassato quindi verrà innalzato il diavolo che si è innalzato verrà abbassato alla fine assistiamo all'innalzamento di Mardokeo e all'uccisione dei nemici di Dio il popolo di Dio viene liberato proprio come accadrà negli ultimi giorni quando ci saranno tentativi di annichilire la chiesa in Esther 8.15 leggiamo Mardokeo uscì dalla presenza del re con una veste reale di porpora e di lino bianco con una grande corona d'oro e un manto di bisso e di scarlatto la città di Susa mandava grida di gioia ed era in festa quando Cristo verrà glorificato si gioirà Esther 9.4 Mardokeo infatti era grande nel palazzo del re e la sua fama si spargeva per tutte le province perché quest'uomo Mardokeo diventava sempre più grande nessuno a palazzo era più grande di Mardokeo se non il re notate come questi tipi di Cristo nella Bibbia diventano secondi solo al re Cristo è secondo solo al padre Giuseppe era secondo al faraone Daniele è secondo al re e spesso passano dalla prigione al palazzo Mardokeo vestito di straccia alla porta della città entra indossando una veste regale nel palazzo del sovrano allo stesso modo Cristo lascia la miseria di questo mondo per raggiungere la destra del padre tutto ci parla di Gesù adesso per la prima volta salterò non qui sul palco nel nuovo testamento e vi mostrerò che persino lì troviamo dei tipi di Gesù uno dei tanti di cui potrei parlarvi potrei citarvi Filemone e la sua esemplare clemenza potrei citarvi Tito e i Romani ci sono vari punti della Bibbia in cui si può scorgere tipi di Cristo ma oggi voglio parlarvi di Stefano è uno degli eroi delle scritture ripieno di Spirito Santo la ragione per cui abbiamo scelto questo nome per il nostro terzo figlio è perché siamo stati colpiti dall'esempio dato da questo diacono che testimoniò la propria fede e fu disposto a sacrificare la propria vita dopo tre anni e mezzo Gesù viene portato davanti al sinedrio dove afferma chi è subisce una farsa di processo lo condannano lo portano fuori dalla città lo crocifiggono mentre lui prega per il loro perdono Stefano predica la chiesa cresce i suoi nemici sono intimoriti lo portano davanti al sinedrio tre anni e mezzo dopo Cristo ah sapete non mi ricordo se ve l'ho detto vi secca se torniamo un attimo indietro nella storia di Esther c'è un altro periodo di tre anni e mezzo il terzo anno del regno di Assuero c'è un banchetto che dura 180 giorni e lì inizia il libro di Esther dopo un periodo di tre anni e mezzo stavo dicendo allora che dopo tre anni e mezzo Stefano sta predicando e per questo motivo lo arrestano e lo conducono davanti a quello stesso sinedrio che aveva condannato Gesù parla di Gesù in uno dei più straordinari sermoni del Nuovo Testamento nel percorrere la storia del popolo ebraico egli dimostra che Gesù è il Cristo e cita molte delle storie di cui vi ho parlato degli stessi personaggi e di come tutti loro rappresentano Gesù a quel punto nel rendersi conto di aver corcifisso il loro messia fremono di rabbia a volte penso se questa serie di presentazioni su Gesù possa andar bene per un pubblico di ebrei spero che non si offendano io stesso sono per metà ebreo perché sapete confrontando la storia di questi personaggi della Bibbia di questi eroi ebrei che sono tipi di Cristo con il Nuovo Testamento non so come uno possa dire no questo non ha niente a che fare con Gesù non so come possono passare oltre perciò quando i leader religiosi sentirono la testimonianza di Stefano digrignarono i denti e si tapparono le orecchie lo portarono fuori dalla città lo condannarono ingiustamente non aspettarono nemmeno che intervistassero i romani lo lapidarono a morte e depositarono le loro vesti anche ai piedi della croce c'erano delle vesti c'erano vesti ai piedi di Saulo depositarono le loro vesti ai piedi di Saulo che poi divenne Paolo non lo trovate interessante e proprio come Gesù intercede per il perdono degli stessi che lo stanno uccidendo poi viene portato via da alcuni amici e sepolto possiamo intravedere tipi di Cristo non solo prima della sua venuta ma anche dopo ed è proprio questo il motivo per cui ho deciso di tenere questa serie di conferenze potete vedere dei tipi di Cristo anche dopo Cristo e questo vuol dire che voi potete riflettere la vita di Gesù tutti questi personaggi biblici dopo essersi arresi a Cristo hanno cominciato a riflettere diversi aspetti del suo carattere lo scopo del piano della salvezza è che in noi possa essere restaurata l'immagine di Dio che Gesù possa riprodurre la sua immagine in noi siamo a Sacramento ci troviamo proprio nella terra in cui si scrisse la storia della corsa all'oro giusto? proprio qui fra Satisforte Placerville ed è qui che tutto ebbe inizio sapete in che modo i minatori della zona di Sacramento trovarono l'oro? setacciavano il fiume e quando cominciavano a trovare qualche piccolo granello colorato non si facevano prendere dall'entusiasmo e andavano via ma piuttosto continuavano a setacciare perché cercavano cosa? cercavano la polvere perché fra la polvere si poteva trovare qualche pepita che non era ancora stata frantumata e rotolata giù dalla collina lungo una vena che conduce al filone principale giusto? non funziona così? vi accontentereste della polvere o vorreste trovare il filone principale? tutti questi personaggi biblici che abbiamo esaminato sono le pepite la polvere e i granelli che ci guidano a Gesù il filone principale egli è il tesoro e spero che sia la perla di gran valore per ognuno di voi spero che lui sia il tesoro per cui siete disposti a lasciare ogni cosa spero che la vostra preghiera sia signore tutto ciò che ho tutto ciò che sono ti appartiene e voglio essere come Gesù e voi amici miei questo è il mio desiderio lo voglio veramente voglio andare in cielo non sto giocando a fare il pastore lo faccio perché mi dà l'opportunità di studiare la Bibbia perché devo studiare per predicare ma voglio andare in cielo proprio come voi dobbiamo diventare come Gesù il mondo sta ancora cercando Gesù e se tutti questi eroi della Bibbia possono essere come Cristo allora anche noi possiamo essere come Cristo tutta la Bibbia ci parla di Gesù grazie a tutti